Il prestito che sarebbe stato concesso dalla portazione marina alla società, nuova società, dicendo che fosse nuova RET55, qualcosa di questo genere. Dopodiché erano voci, chiesi se c'era qualcosa di vero a due menti del consiglio di amministrazione dell'angolina che era il dottore e menti dell'architetto Pantone e dopodiché quando loro mi confermarono, dicendomi che loro non è che sapessero bene la faccenda perché loro avevano vista solo in sede di ratifiche in consiglio di amministrazione, a quel punto pensai che fosse mio dovere rivolgermi alla dottore, alla procura. C'è anche un corso conoscitivo rispetto alla questione che in quel mentre, come dicevo, divampava a livello sarnasistico e non solo. Quindi per approfondire appunto la natura di questa notizia, sa com'è finita poi questa interrogazione che ha sollevato il consiglio regionale? Mi viene data risposta il consiglio dall'assessore Gallera su mandato del presidente Maroni e ora lo ricordo esattamente i termini della risposta, ma mi pare che questa fu di conferma di quello che le fonti giornalistiche avevano avanzato e cioè l'esistenza di questo Paese.